Non c'è solo l'assedio di Homs, ma bombardamenti in diverse città della Siria. Come a Sermin e Idlib, due località nel nord a poche decine di chilometri dal confine con la Turchia. Alcune famiglie provano a scappare per mettersi in salvo dai bombardamenti dei soldati di Bashar al-Assad. Solo oggi le vittime della repressione sarebbero una quarantina in tutto il paese. Non dormiamo, abbiamo paura, dice un abitante di Idlib. Tra i morti ci sono dei bambini, non pensate che abbiamo dei motivi per essere spaventati? Vediamo i carri armati che bombardano da lì, non c'è luogo che non sia stato colpito. I carri armati stanno bombardando pesantemente dal primo mattino, dice un comandante della brigata dell'esercito siriano libero a Sermin. In questa provincia roccaforte dell'organizzazione Ribelle, i combattenti cercano di respingere l'assalto dei soldati governativi. Intanto per oggi è prevista una nuova riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere un progetto di risoluzione sulla fine delle violenze e l'accesso dei gruppi umanitari alle zone più colpite.